Tema migranti e piano triennale per le politiche culturali. Sono questi i due provvedimenti principali approvati nell'ultimo consiglio regionale di Basilicata. L'uno con l'approvazione unanime di un disegno di legge della Giunta che prevede norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati. L'altro volto a potenziare l'offerta di eventi danzanti, musicali, cinematografici e spettacoli viaggianti con 1.300.000 euro. Il tutto nel giorno in cui il presidente Pittella ha relazionato sulle dimissioni degli assessori Berlinguer, Liberali e Franconi quest'ultima, a quanto pare, tra le possibili riconferme ed ha aperto di fatto le interlocuzioni per il rimpasto fino al termine del suo mandato. Sui tempi non esiste un cronoprogramma già fissato. Di sicuro in calendario saranno due gli step da superare e che porteranno alla scelta dei nomi e dalla consegna delle deleghe ai trasporti, politiche di sviluppo e salute. Il prossimo 11 luglio Pittella sarà arbitro di una partita giocata all'interno del Partito Democratico regionale, dove la composizione degli organi interni, prevista nell'Assemblea Lucana, vedrà a protagoniste la corrente renziana e della minoranza in capo al parlamentare Roberto Speranza. L'altra è in autunno, con l'entrata in vigore del nuovo statuto, che porterà il numero degli assessori da 4 a 5. Tra i punti fermi si riparte dalla figura di Braia, da poco più di un anno sostituto del tecnico Ottati, alle politiche agricole e dal quale il governatore, affiancherà nomi, dichiara scelta politica. In pole position ci sono il capogruppo del PD Cifarelli e di consiglieri Castelgrande e Santarsiero. Su sponda sindacale però è emerso anche il segretario generale della Will Lucana Vaccaro, il quale non si sbottona sulla possibile chiamata di Viale Verrastro. Ferma e decisa, la linea che Pittella intenderà portare avanti fino al varo del nuovo esecutivo. Sono persona che ascolta e condivide ed auspico collegialità, ha dichiarato. Ma se non dovesse giungere, allora la scelta del presidente sarà quella decisiva.